Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale Calcio e Palermo, io sono Antonio Oggi non ci sarà nessun video di calcio, non ci saranno storie calcistiche, non ci sarà nulla di tutto questo Sarà un video solamente riservato a me e alle persone che comunque seguono questo canale già da tantissimo tempo Ma anche a quelle che mi seguono già da poco per parlare un attimo di me È un problema che si protrae da 5-6 anni Nell'ultimo anno ho cercato di nascondere il più possibile questo problema, chiamiamolo Che purtroppo ancora oggi non ne sono uscito Ed è uno di quei problemi che purtroppo quando ti segnano c'è il serio rischio che ti passi almeno 10-15 anni La tua vita a chiederti perché ho perso così tanto tempo E purtroppo è quello che sta succedendo a me Oggi parlo delle mie condizioni di salute, del fatto che io non mi sento per ora parlando con voi È al 100% operativo per portare dei contenuti su questa piattaforma Come anche su altri, non so, siti come Twitch, nello fare streaming Oppure su TikTok, ancora ancora diciamo che quando ho un po' di tempo libero riesco a fare qualcosa Di diciamo cerco di intrattenermi E anche sul secondo canale quando ho cercato Anche se ho già detto un sacco di volte che non pubblicherò tantissime cose lì E quando pubblicherò ci metterò parecchio tempo Non significa niente, cioè io mi trovo sempre nella stessa situazione Forse su TikTok ogni tanto su quel social lì mi capita di fare qualcosa di interessante Ma chiaro che la mia creatività è nata su questa piattaforma Io parlando con voi in questi ultimi sei anni il subite di cotte e di crude Sapete quando finiscono delle relazioni Finiscono delle amicizie Finiscono delle passioni che magari tu volevi portare avanti E che purtroppo non hai potuto più continuare Questa cosa mi ha un po' inconsciamente scosso È una cosa che chiaramente io dentro di me sapevo Mi dispiaceva che effettivamente non potevo più continuare varie passioni Vedi ad esempio il calcio Vedi il fatto che comunque io in estate cercavo di andare nella mia città A fare i salesiani nel periodo estivo E questa cosa l'ho potuta vedere Insomma che piano piano se ne andava da me Perché non ci sono potuto più andare Perché chiaramente c'erano altri impegni di mezzo E di conseguenza ho perso anche quello È una vita fatta un po' così Si perdono delle cose Se ne conquistano altre Purtroppo però è questa la cosa brutta Di una persona che cerca di vivere nella mia stessa situazione Ovvero che non si potrà mai chiedere Come mai per questi sei anni Non sono mai riuscito a reagire Perché parlando con voi Io ho tanto da farmi perdonare Più che altro non perché io abbia fatto qualcosa contro di voi Ma è una mia sensazione L'unica cosa su cui ho mentito forse in tutto questo tempo È a quelle persone che in privato mi chiedevano Se io lavoravo ma in termini proprio come lavoro Qualcosa che ne so come consulente finanziario Sto facendo un esempio Oppure non lo so Comunque qualsiasi tipo di lavoro Tranne quello del montaggio di video Dove lì sicuramente non vi ho mentito Purtroppo quella è una di quelle bugie Che magari da una parte possono fare bene Da una parte possono fare male Sta alla persona La singola persona Chiedere O comunque vedere la propria reazione Com'è Perché l'ho fatto Perché l'ho fatto Semplicemente perché Io da sei anni Non ho avuto più la possibilità Forse per questi motivi Che vi ho già spiegato in precedenza Di poter stare in contatto Col mondo esterno Quindi al di fuori di casa mia Premetto che comunque non è un discorso Ah fai youtube per questo stai sempre isolato No Perché anche prima Io avevo una vita sociale L'ho sempre avuta Ho avuto anche una ragazza Se per questo Ne ho avuta anche più di una Nel corso degli anni intendo Però questa cosa Da un giorno all'altro È che Come se Ho iniziato a subire Lentamente questo problema E ne ho subite le conseguenze Anche adesso Parlando con voi In precedenza Avevo detto in un video Dove ho fatto un vlog in macchina Dove io inviavo i curriculum E in effetti li ho inviati Dove Anche quando ho fatto uno di questi Colloqui Successivamente Io non ho Accettato il secondo colloquio E non perché io non volessi lavorare Perché altrimenti non l'avrei manco fatto Cioè non l'avrei neanche fatto Il curriculum per Lavorare Quest'azienda Ma semplicemente perché Il mio problema Dovuto All'ansia Non lo so se è un problema Dovuto all'ansia O dovuto a qualcos'altro Ha fatto stare che mi tiene bloccato Ormai da parecchi anni Qui Mi capita ogni tanto Di sforzarmi Andare da qualche parte Ma non Prendere un impegno Così importante Come può essere un lavoro Come può essere un progetto Come può essere Qualcosa di Importante Come andare a mare Come Non lo so Fare un viaggio Ecco E' una di quelle cose Che purtroppo Negli ultimi Cinque Sei anni Mi hanno portato A vivere in una situazione Di questo tipo E credetemi Io Ci sto male Molte volte io Penso tra me e me Che cosa dovrei fare Come potrei reagire E a me questo è il problema Che purtroppo su youtube Vero che richiede tanta dedizione Potrei anche arrivare domani A fare 10.000 5.000 iscritti Guadagnare pure 200 300 euro E farlo diventare Piano piano Il mio lavoro Ma Non è questo il punto Il punto è Che io purtroppo Non sto bene Non sto bene Sono anche Parlando con voi In cura Scusate un attimo Sono un attimo In cura Da Insomma Una di queste Dottoresse Che sta cercando Di darmi una mano Quindi mi dispiace Se magari a qualcuno Possa Dispiacere in primis Che io possa essere Poco presente Su questa piattaforma Sono sicuro che Qualche volta Avrò delle conseguenze In termini Di perdere Magari qualche iscritto Qualche Qualche persone in più Magari Sia un po' Spazientita Perché io sono Veramente Poco attivo Ma è giusto Staccare Giusto staccare un po' Per qualche mese Rispetto agli altri Sto sicuramente Peggio Perché un conto E parlarne Una volta E magari dopo una settimana Le cose Vanno decisamente meglio Ma Quello che Che ho io È purtroppo Una cosa Che ancora oggi Non so per quale motivo Mi trovo qui A Parlare solamente Con voi Non cercare Il dialogo esterno Con delle persone Provarle a conoscere Purtroppo è una cosa Che è più forte di me Anche perché In termine di Chi mi chiede Insomma Di andare ad esempio Allo stadio Io allo stadio Ci sono andato Una volta sola E poi Per il resto Non ci sono potuto più andare Ma perché c'è questo tipo Di limite Che mi blocca Purtroppo I sintomi Potrebbero essere Qualsiasi cosa Come svenimento Come potrebbe essere Che ne so Un senso di vomito Un mal di testa E Avere anche Come dire La tachicardia Iniziare a sentire freddo E un insieme di cose Che Prima non avevo Non l'avevo assolutamente Purtroppo invece Adesso Sono cose che Capitano molto spesso Ed era giusto Parlarne con voi Era doveroso Parlarne Perché Portare avanti Questa storia Non sapete Quanto mi pesa Non sapete Quanto mi dà fastidio Tempo fa Mi avevano Prima Con un'altra Dottoressa Mi avevano detto Che io soffrivo Ma Non lo so Se effettivamente È così Di Agorafobia Chi vuole Insomma documentarsi Di che cosa È L'agorafobia Se lo può andare a cercare Non mi vergogno Neanche a parlarne qui Come Non mi vergogno A parlarne magari Con qualcuno Che già conosco Perché Alla fine Non c'è cosa migliore Che aprirsi Anche con le persone In generale Dire a tutti Che tipo di problema Posso avere Senza che Vengo Giudicato Per quello Che in realtà Non sono Allo stato attuale Sono in questa maniera Perché Ho un problema Che ancora oggi Non sono riuscito A risolvere E quindi Capito un po' Che tutti Gli ultimi montaggi Video Degli ultimi mesi Dell'ultimo anno Soprattutto Che la cosa Si è fatta Molto più incessante È stato Pesante Dalle storie Calcistiche Ai contenuti Normali Dove non c'era bisogno Di editare parecchio E purtroppo è questo Purtroppo la vita è così Purtroppo la vita Evidentemente Ha deciso di avere Fino a questo momento Una sorte Sbagliata Brutta Nei miei confronti Che io non ho mai mancato Di rispetto a nessuno Ho sempre rispettato chiunque Mi abbia sempre Parlato Mi abbia sempre cercato Non ho mai mancato Di rispetto a nessuno E la situazione Cerco in qualche modo Di Mettergli un punto Tellone di sopra Per cercare di coprire Il più possibile Però poi alla fine I sintomi Le problematiche La mia paura Viene fuori È difficile comunque Non fare niente E anche editando i video Molte volte mi capita Seppur Essendo a casa Mi sento Non lo so Forse essendo una casa Mi sento più protetto Essendo casa mia E di conseguenza Mi viene raramente Questo problema Che inizia a tremare O un insieme di cose Che chiaramente Non posso spiegare A chi non vive Questa situazione Quindi Io per un po' È giusto che Sparisca dai social Almeno quelli principali Provare magari più avanti Ma Non è che se io Fra due o tre mesi Ritorno Significa che Sono Completamente Rinato L'idea è Quella di ritornare Nel momento in cui So E ho la consapevolezza Di stare finalmente Bene Dopo anni e anni Veramente Veramente Bui Sia dal punto di vista Lavorativo Sia dal punto di vista Fisico Sia dal punto di vista Mentale Personale Tutto ciò che riguarda Una persona Per poter vivere Una quotidianità Serena Leggera Magari ogni tanto Respirare anche Quell'aria pesante Ma avere Quella mentalità Quella forza Quella consapevolezza Di poter superare Ogni cosa E io allo stato attuale Purtroppo non posso E non riesco Insomma A reagire Quindi Era giusto Parlarne con voi Perché voi siete i primi Che essendo utenti Vi aspettate da me Essendo un creator Dei contenuti Che possono essere belli Possono essere imbarazzanti Qualsiasi tipo di contenuto Che chiaramente Possa cogliere La vostra curiosità E' quello che a voi interessa Cercherò al più presto Di essere presente Non vi posso promettere Al cento per cento Che sarà così Però Quanto meno Cercare di Debellare Per gran parte La problematica E chissà Più avanti Riuscire a ritornare Con un altro tipo Di testa Un altro tipo Di faccia Non di quella persona Che è sofferente Che state vedendo In questo video Ma di un'altra persona Felice Che possa chiaramente Vivere una vita Decisamente migliore Perché è quello Che mi merito io Ed è una delle poche volte Su cui posso vantarmi Veramente Perché non credo Di meritarmi Una cosa del genere Che torno a ripetere Non è una malattia Non è niente Semplicemente È tutta una cosa Dovuta al cervello Al fisico Come reagisce Soprattutto per le ultime cose Che mi sono passate Negli ultimi anni E magari consciamente Non me ne sono mai accorto Mentre nel mio inconscio Era così E questa cosa Purtroppo sta venendo fuori Solamente negli ultimi anni Spero che mi possiate comprendere Spero che questo video Spero allo stesso tempo Che mi possiate capire Veramente a pieno Vista la mia situazione E quindi pazientare Un altro po' Magari dopo qualche mese Sperare che La situazione si possa Leggermente Debellare E' la cosa che chiedo Ci sentiamo presto Dispiace Per adesso Abbandonare Un po' Tutto il mio progetto Ma è giusto così Giusto così Quindi se qualcuno In futuro Mi dovesse chiedere Dove sei finito Almeno sa Tramite questo video avviso Il perché Non caricherò dei video Magari Nei prossimi anni Nel prossimo Non lo so Quanto durerà Questa problematica Ma spero solamente Di poterla Anche in piccola parte E levarmela dai piedi Sarebbe proprio Un trionfo Quanto Restare in tema calcistico Come vince ad esempio Uno scudetto Sarebbe una cosa Di questo tipo Vincere Una battaglia Di questo tipo E come Vince veramente Qualcosa Sul campo di calcio Spero che Ci sentiamo presto Grazie mille Per aver visto questo video Scusate se in alcuni momenti Ero a tal punto Di cedere Però fortunatamente Ce l'ho fatta E niente Ci becchiamo Alla prossima Grazie mille Per aver visto questo video Ciao A presto